salve a tutti e bentornati sul mio canale oggi vorrei affrontare insieme a voi un discorso sull'iperfocale e sullo zone focus che sono due aspetti legati fra loro e che permettono di focheggiare e ottenere foto abbastanza nitide o accettabilmente nitide facilmente anche con obiettivi manual focus che oggi probabilmente si è dimenticato come si usano a causa dell'utilizzo eccessivo e alcune volte sconsiderato dell'autofocus. Il sistema è abbastanza semplice e riguarda un po' tutti gli obiettivi manual focus o tutti gli obiettivi in generale ma in particolare manual focus perché come vedete da questo obiettivo montato sulla Leica M6 ci sono una serie di numeri che ci vengono incontro quando affrontiamo il discorso dell'iperfocale e del zone focus. Tecnica che peraltro è utilizzata moltissimo in quella che oggi viene chiamata con un termine inglese che non mi piace per niente ma viene chiamata street photography e quindi diciamo che in quell'ambito trova una delle sue massime espressioni. Per far questo adesso ci avviciniamo all'obiettivo e spieghiamo alcuni concetti base che partiranno dai diaframmi che magari già conoscete tutti i concetti niente di particolarmente nuovo sono concetti base della fotografia e che però ci servono appunto per per affrontare questo discorso dell'iperfocale e del zone focus. Se non l'avete fatto è il momento di iscrivervi e attivare la campanella e andiamo subito a iniziare. Per affrontare il nostro tema dobbiamo dapprima parlare del diaframma. L'effetto della luce sulla pellicola dipende dalla luminosità dell'immagine che si forma su essa e dal tempo di esposizione. Quindi la luminosità è controllata dal diaframma mentre il tempo di esposizione viene regolato dall'otturatore. Il sistema di messa a fuoco invece assicura la nitidezza dell'immagine. Di diaframmi ne furono costruiti nell'arco dei tempi diversi tipi. Se ne conoscono di diaframmi fissi che erano delle aperture poste su una lastra e interposte fra l'obiettivo e il meccanismo di scatto. Poi vennero i diaframmi ad apertura fissa che vengono come quelli per esempio degli obiettivi catadiottrici che hanno una unica apertura. Nel 1858 John Waterhouse invece inventò un sistema ad aperture con diametri diversi e anche di forme diverse. E poi furono anche introdotti dei dischi girevoli però avevano l'inconveniente di avere un numero fisso di diametri di aperture. I diaframmi ad iride invece sono costituiti da lamine mobili che formano un'apertura di diametro variabile. I più semplici sono di due sole lamelle sagomate e quelli più sofisticati invece hanno da 6 a 15 lamine di acciaio molto sottili situate fra le lenti dell'obiettivo e ruotando la ghiera del diaframma le lamine si spostano variando gradualmente l'apertura che ha una forma quasi circolare. La luminosità dell'immagine che si forma sul piano focale non dipende solo dalla dimensione del foro ma anche dalla focale dell'obiettivo e questo è stato introdotto con il numero F che è dato dalla lunghezza focale divisa il diametro dell'apertura. Per esempio un'apertura di 25 mm di diametro in un obiettivo da 100 mm da F4. La stessa apertura in un obiettivo da 50 mm da F2. Quindi è stata normalizzata la scala delle aperture e ciascun valore della serie corrisponde a un'apertura che lascia passare la metà della luce dell'apertura precedente e il doppio di quella successiva. Per ottenere ciò ogni numero F deve essere uguale a quello che lo precede moltiplicato per 1.41 ma con qualche arrotondamento. Quindi abbiamo una scala per esempio 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 eccetera. I numeri F e piccoli 1, 4, 2, 8 corrispondono a grandi aperture mentre i numeri grandi 16 e 22 corrispondono a diaframmi più chiusi. L'ampiezza delle scale dei diaframmi dipende per ogni obiettivo dalla sua massima luminosità e dal valore F più grande che il costruttore accetta. Quindi potremmo avere un obiettivo F4 vuol dire che la sua massima apertura sarà F4. Un obiettivo 2, 8 la sua massima apertura sarà 2, 8. Detto ciò sui diaframmi possiamo cominciare ad introdurre il concetto di profondità di campo. Quando si mette a fuoco a una certa distanza si ottiene la massima nitidezza per tutti gli oggetti situati in un piano parallelo a quello della pellicola e posto a quella distanza. Tuttavia anche altri elementi che si trovano davanti o dietro al soggetto messo a fuoco appaieranno sufficientemente nitidi e si considerano accettabilmente a fuoco tutti gli elementi che sono situati in una zona apposta a cavallo fra il piano di messa a fuoco e quello in cui la nitidezza della foto apparirà accettabile. Questa zona si chiama profondità di campo. questa varia al variare della focale dell'obiettivo utilizzato dalla distanza del soggetto e del valore del diaframma utilizzato. La scala della profondità di campo è puramente informativa e si trova vicino a quella delle distanze su un obiettivo e in un punto fisso della montatura. Di fianco al segno di riferimento della messa a fuoco vi sono delle coppie di linee simmetriche e i numeri hanno delle diverse aperture di diaframma. Qualsiasi apertura di diaframma viene riportata due volte, una volta a sinistra e una volta a destra del segno di riferimento delle distanze. La linea di destra indica sulla scala delle distanze l'inizio della profondità di campo, mentre quella a sinistra ne indica la fine. Quindi possiamo chiamare distanza iperfocale la distanza in cui comincia la profondità di campo quando l'obiettivo è messo a fuoco all'infinito. Quindi se mettiamo a fuoco un obiettivo all'infinito e ad esempio l'inizio della distanza ipofocale è 5 metri, quindi quell'obiettivo avrà una zona di nitidezza che si estende da 5 metri ad infinito. Chiaramente in questo modo che cosa stiamo facendo? Stiamo sprecando una profondità di campo che magari non ci serve. Allora qual è il sistema del zone focus è andare a mettere la tacca della distanza iperfocale non sull'infinito ma sulla distanza che serve a noi. Ad esempio noi la mettiamo sui 5 metri invece che sull'infinito e avremo una estensione della distanza di messa a fuoco che andrà da non so 2 metri e mezzo fino a infinito o fino a 25 metri per esempio e in questo modo avremo una distanza la messa a fuoco sui 5 metri e rimarrà accettabilmente a fuoco tutto ciò che sarà compreso fra 2 metri e mezzo e 25 metri ad esempio. Quanto più aperto sarà il diaframma tanto minore sarà la profondità di campo e con diaframmi molto chiusi per esempio 16-22 la profondità di campo sarà così grande che con un obiettivo normale è una messa a fuoco accettabile intorno praticamente da 2 metri ad infinito e questo è il metodo che viene anche sfruttato dalle macchine a fuoco fisso. Eccoci quindi tornati per delle breve considerazioni finali su quello che è il zone focus quindi con il zone focus o con mantenere foto nitide senza diciamo troppi problemi e utilizzare più semplicemente macchine come ad esempio la Rolly 35 che usa un sistema di messa a fuoco a stima e questo permetterà di essere rapidissimi nella messa a fuoco anche più rapidi di quanto può essere un autofocus e non perdere lo scatto desiderato proprio per questa via quindi per il fatto che l'iperfocale è legata alla lunghezza focale dell'obiettivo e in qualche modo alla stima anche della della messa della messa a fuoco e sarà sicuramente più ampia con obiettivi tipo il 28 mm quindi con 28 mm avrete sicuramente una facilità di messa a fuoco enorme sarà un po più ristretta con un 35 mm e sarà decisamente più ristretta con un 50 mm ed è per questo che queste tre focali nella street photography sono un po' considerate le regine della street photography perché con un 28 mm avrete grande facilità di messa a fuoco ma dovrete avvicinarvi il 35 è un giusto compromesso una via di mezzo il 50 mm lo possiamo quasi considerare un teleobiettivo dove la distanza di messa a fuoco sarà abbastanza cruciale per ottenere immagini nitide detto questo noi ci salutiamo qui fatemi sapere cosa ne pensate che sistema utilizzate voi e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti